salve a tutti ragazzi da recensi insieme oggi voglio presentare un altro prodotto di questo grande venditore venditore di amazon avan 3 niente che devo dire che comunque io collaboro da un po da un po di tempo con con questo venditore e devo dire realmente ragazzi che ha dei prodotti davvero straordinari soprattutto di ottima fattura niente il il prodotto che voglio presentarvi oggi velocemente facciamo una review molto veloce è il prodotto praticamente sarebbero queste cuffie sportive con marco aptx modello nb02 niente presente le classiche cuffie in collarino che voi potete attaccare ma la cosa particolare è che hanno comunque un magneto sia la parte del collarino per poterlo chiudere sul collo per non poter per non perdere le cuffie mentre che corretto fate sport e soprattutto altro magnete da queste cuffiette niente abbiamo subito nella confezione vediamo cosa troviamo ovviamente se vi registrate avete una garanzia maggiore sul prodotto sempre ripeto avantri.com quindi www.avantri.com garanzia allora apriamo velocemente il prodotto io l'ho aperto già per testarne il funzionamento velocemente lo apriamo intanto come potete vedere nello scatolo qui ci abbiamo si apre anche al libro per poter vedere diciamo il prodotto velocemente ma io già l'ho aperto come potete vedere comunque vedrete poi le cuffie belle sistemate e pulite comunque apriamo subito la confezione eccola qui un attimino bella confezionata come se si presenta bene all'interno troviamo subito le nostre scusate c'è dentro non c'è nulla vediamo subito le nostre cuffie che io ovviamente già avevo utilizzato avevo aperto va bene perché si erano tolte comunque comunque stanno così li troverete in questo modo va bene comunque qui ovviamente abbiamo manuale di istruzioni la card per per la garanzia all'interno troviamo anche un cavetto usb di ricarica e le varie gommine di ricambio per di varie misure per ognuno col suo orecchio e che dire mettiamoli da parte subito troviamo le cuffie eccolo ovviamente come ripeto quando sono incastrate così apriamo le togliamo le delicatamente perché ovviamente sono sempre cose di plastica più leggere le fanno più delicati sono ecco qui qui ci sono le nostre cuffie marchio avantri niente troviamo qui alla nella parte superiore il marchio avantri e ovviamente anche il il cavetto diciamo l'ingresso usb per la ricarica ma va bene comunque questo si apre uno sportellino gommato lo vedete poi qui abbiamo tutte ricoperte in gomma molto molto leggere perché comunque chi fa sport deve cercare di sentirle meno possibile meno possibile comunque ecco qui da questa parte troviamo subito play pausa volume meno volume più e come potete vedere si attaccano anche così visto a un magnete sia questo e questo hanno un magnete per attaccare per attaccarle direttamente e comunque da questa parte troviamo subito il pulsante on off quindi accensione spegnimento e il microfonino per poter parlare rispondere alle telefonate qui un piccolo led di stato quando noi accendiamo l'accendiamo subito velocemente ecco teniamo premuto ecco qui è acceso subito parte la vocina del bluetooth comunque che dire ragazzi sono molto leggeri ovviamente quando ce li avrete al collo e questi qua saranno inseriti nelle vostre orecchie vedete calamita tac sono al collo e allora automaticamente quando correte stanno belle salde quindi non c'è il pericolo che possano cadere ovviamente queste qui quando volete chiuderle pure non hanno il magnete perché sono positivo e positivo ma servono solo questo magnete all'interno per attaccarle posizionarle direttamente nel padiglione delle cuffie niente comunque suono ottimale ve lo posso garantire sentono benissimo il basso al suo posto gli avuti al suo posto i media al suo posto che dire ragazzi io li consiglio è un nuovo prodotto da questo venditore proposto da questo venditore su amazon avete un'ottima qualità ad un buon prezzo e soprattutto molto molto conveniente soprattutto si sentono benissimo ragazzi ho fatto una review molto veloce per farvi vedere un po il prodotto ovviamente tutto fatto bene di materiali di ottima fattura molto delicati comunque perché comunque sono più leggeri sono io sono del pare che più leggeri sono e più delicati sono i prodotti ma comunque tutto bene alla grande legge qualsiasi formato di file e basta basta comunque tutto qui ragazzi per oggi è tutto alla prossima recensione grazie a tutti da recensioni insieme spero che vi sia stata utile questa recensione ciao ragazzi grazie a tutti